Sì, l'ho cercato, l'ho voluto, ma purtroppo non è bastato. Adesso pensiamo già a Terni che giochiamo tra domenica e sarà anche lì una battaglia perché ci servono punti per andare avanti. Hai detto nella conferenza stampa pre-partita che devo imparare ad attaccare il primo palo. Il gol è fatto sul primo palo, che cosa ti manca ancora per andare ancora meglio? No, sicuramente bisogna migliorare ancora. Sono giovane, mi serve ancora un po' di differenza, sempre a gestirmi fisicamente, in corsa o tecnica. E niente, sarà, come ripeto, sarà una battaglia anche a Terni e non bisogna sbagliare nulla. Sì, è bellissimo, ma purtroppo non è bastato. Speriamo che ce ne saranno altre. No, quello sì, perché ci ho lavorato già da piccolo e sono un po' una testa calda, quindi cerco sempre di contenermi in campo. Ma cosa è successo? No, ma qual è intendente? Quando c'è stato un battitecco con l'arbitro e un avversario, qualche scritta? Ma no, sono cose che succedono, poi si chiede scusa. Grazie. 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 Grazie.